ciao ragazzi un saluto da zebra bianconera allora nei video di oggi parliamo di quando la nostra juventus vinse 2 a 1 contro il milan e lo stadium partite di gioco il sabato 6 aprile 2019 fu la partita della trentunesima giornata milan che cercava i punti per andare in centrosi che sarà provando ad andare c'è più sig e noi che ci mancavano poche partite per vincere l'ottavo scudetto consecutivo ragazzi quindi fu una partita molto sofferta una vittoria rimonta avevano fatto su milan vittorie che fanno parte vittorie di carattere specialmente che fanno parte le dna della nostra juventus quello anche di credici sempre fino alla fine ragazzi adesso parliamo della partita primo tempo che inizia con i primi 25 minuti che si gioca una partita praticamente a cento campo si gioca la partita c'è è una partita molto fisica all'inizio e affanno le spese purtroppo è mle chan che subisce qualche colpa centro campo e per sicurezza allegri lo si istituisce con che dia quindi esce mle chan ed entra che dia dopo i primi 25 minuti milan comincia a avere delle occasioni con bakayoko con che si e poi a quarantesimo minuto arriva la doccia gelata per la nostra juventus l'uno a zero per il milan e per noi fratelli giuventini la doccia gelata come la stessa juventus in campo ragazzi una patosta una patosta davvero la partita si complica però prima dell'intervallo viene occasione per 1 a 1 con mangiurici che il nuovo sciata che fa una nuova sciata e reina la mette in caccia d'angolo ragazzi mamma mia per poco potevamo pareggiare la partita prima dell'intervallo finisce il primo tempo inizia il secondo tempo e vi è ancora un'occasione per il milan per il 2 a 0 con piontec ma cerni ci salva con la grande parata e poi verso il sessantesimo arriva il caccio di rigore per la juventus fare di musacchio su di bar e nai di rigore e di barra segna il conto è 1 a 1 1 a 1 per la nostra juventus con il gol di barra su caccia di rigore battuto reina per vedere 1 a 1 ragazzi e appareggiamo e adesso abbiamo mezz'ora più recupero per vincere la partita infatti adesso poi entrano anche pianis e anche ken ragazzi moise ken moise ken che è un paio di partite che ha molto decisivo infatti poi nell'ultima mezz'ora abbiamo occasioni con alexandro con ken con bentancur con benardeschi ma poi calabria sbaglia un pallone al limite dell'aria e la passa pianis piace che seminari di gol ken ken di fronte a reina tac 2 a 1 per la nostra juventus ragazzi con il gol di moise ken ancora il gol di moise ken moise ken moise ken 2 a 1 per la nostra juventus la juventus in vantaggio completa la rimonta in maniera strepitosa con ken che segna ancora dopo l'empoli in casa e dopo il cagliari fuori casa arriva ancora un gol di moise stupendo ragazzi grandissimo moise poi finisce la partita 2 a 1 per la nostra juventus tre punti importantissimi conquistati che ci consentono di avvicinarci ancora di più allo scudetto benissimo ragazzi bene ragazzi con questo è tutto vi auguro una buona giornata iscrivetevi al canale youtube e seguitemi anche su instagram su zebra da tiro basso bianconera fino alla fine forza juventus e buona giornata a tutti ragazzi ciao